benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album 14 del libro shale valido fino al 10 novembre del 2015 intanto mi raccomando perché ci sono tantissime promozioni offerte e davvero wow ed è il momento di fare scorto di alcuni prodotti sfogliamo l'album e poi vediamo insieme il capitolo ciao allora oggi andiamo a guardare l'album numero 14 che valido fino al 10 novembre 2015 prima cosa che vediamo è il sommario ok andiamo avanti e vediamo che c'è un set in edizione limitata della crema mani all'arnica bio questa che anche la confezione bellissima edizione limitata perché festeggiamo quindi intanto abbiamo due creme mani all'arnica bio il 7 a soli 3 euro quindi davvero in promozione e poi sapete che è una crema fantastica infatti sono 50 anni che è in commercio altro prodotto speciale per prepararsi all'inverno abbiamo la crema fondamentale notte della linea anti age global a solo 19 95 andiamo avanti anche la crema eccola della rich creme 19 95 e quella dell'elixir 7 9 a 17 euro 95 sempre trattamenti da notte ovviamente andiamo avanti abbiamo anche guardate qua il set eccolo qua che comprende due confezioni di fiale flash luminosità a 7 95 quindi davvero una grande promozione abbiamo anche la crema idra vegetale eccola a 5 95 idratazione intensa 24 ore e la linea è la crema della linea sensitive vegetale quella nuova linea è da tanto evitiva per i sensibili a 5 95 altre promozioni per i capelli in questo caso il bassamo ripartore punta secche 4 95 e l'olio ripartore per i capelli sempre a 4 95 andiamo avanti perché abbiamo anche sempre per i capelli il la maschera nuti riparatrice a 4 95 ed il siero e strutturante per capelli a 9 95 vediamo anche che ci sono le promozioni per il look autunnale quindi abbiamo gli smalti tra 95 e l'uno il top coat effetto smoky quello per effetto opaco 6 95 e questo rossetto in crema idratante che è una edizione limitata natalizia a 9 95 andiamo avanti vediamo le novità le novità sono queste come si chiamano e accessori per fare la nail art quindi abbiamo questi che sono gli strippers le strisce adesive e se no ed è decalcomanie gli stencil eccoli gli stencil che vanno applicati sulle unghie poi si passa sopra lo smalto e resta il disegnino e sono davvero molto carine andiamo avanti perché guardate qui abbiamo in promozione queste matite occhi e del mai più senza è una linea mai più senza in promozione mai più senza e le matite colorate vegetali a 5 95 l'uno con tutti questi colori quindi una grande promozione mai più senza anche al rossetto grasse rouge 9 95 i colori tra questi potete scegliere quello tra questi disponibili quindi tutti i colori mai più senza anche il fondotinta in crema che è davvero super promozione a solo 10 95 mai più senza anche lo stilo correttore giovinezza radiosa 9 95 potete scegliere tranquillamente il colore andiamo ora alle offerte perché abbiamo i set di due gel doccia queste da linea bio quindi abbiamo quello nutriente all'olio d'argan e quello sempre nutriente al burro di karité tutti e due a 3 euro 95 quindi davvero un validissimo set sempre da linea bio abbiamo se no a 10 95 il set che comprende la crema nutriente viso da 50 ml e il balsamo labbra nutriente altra promozione e lo speciale labbra nutrite perché abbiamo il balsamo labbra a questi in questo caso quello al burro al karité e quello al macadamia tutti e due a 3 euro ultima promozione eccola qui perché abbiamo i due gel doccia in questo caso abbiamo e dei set che comprende il gel doccia nocci di macadamia e quello ed amandola della california ed è a solo 3 euro 50 eccoci allora ora che abbiamo fatto l'album vi posso ricordare che e c'è anche l'album di natale quindi potete tranquillamente fare gli ordini in combinazione quindi un po dall'album 14 e un po dall'album natale se volete fare un cumulativo quindi davvero una una case da non perdere qui sotto il link per contattarmi per le informazioni per gli ordini come sempre e ci sarà anche come sempre il link per scaricare il formato pdf e il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer non mi resta che ricordarvi che l'album 14 è valido fino al 10 novembre del 2015 e vi auguro buoni acquisti totalmente profumati con il maggior naturale mondo di Yves Rocher